John Borno ragazzi, prima di iniziare per me è importante farvi sapere e essere orgoglioso di dirvi che sono diventato sponsor ufficiale Eneba.com Eneba è un nuovo mercato di gioco con oltre 20.000 prodotti digitali con un interesse sempre crescente ad espandere la propria libreria per essere il punto di riferimento per ogni tua esigenza di gioco Tra l'altro con Eneba per qualunque problema c'è un supporto live 24 ore su 24, 7 giorni su 7 E con l'eccellente punteggio Traspilot puoi essere certo che riceverai il tuo gioco a casa senza intoppi State qui com'è possibile acquistare tramite pc, xbox, playstation, nintendo games, gift card, game points, prossimi giochi Vi faccio vedere anche un'altra cosa, cerco FIFA 22, vado a mettere il mio codice bonus che è SQLF e applico il codice, ecco qua che avrò immediatamente degli sconti importantissimi John Borne ragazzi, John Borne benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in un video importantissimo Perché ieri è successo qualcosa di clamoroso, è successo qualcosa di storico, è successo qualcosa che andrà obiettivamente e oggettivamente a cambiare il futuro del nostro calcio Un po' come successe ormai più di dieci anni fa quando lo sceicco del Manchester City andò a prelevare il Manchester City rendendola poi una potenza Prima inglese e poi europea, ieri è successo una cosa di portata molto simile, di caratura più o meno similare a quella che vi sto raccontando in questo momento Perché avete capito bene? Perché ve ne avevo parlato un anno fa, molti di voi mi avevano detto ma saranno le solide voci, non sarà mai vero, non accadrà mai, eccolo là Eccolo là che Mohamed Bin Salman, lo sceicco Mohamed Bin Salman, adesso andremo a scoprire appunto di chi stiamo parlando Ha rilevato le quote del Newcastle, ragazzi e questo è qualcosa di clamoroso, una clamorosa svolta di mercato per il calcio Un fondo saudita ha perfezionato l'acquisto dello storico club inglese in Newcastle per una cifra notevole Si parla di 350 milioni di euro, ragazzi sono tantissimi Il Newcastle vale così tanto solamente perché appunto fa parte della Premier League Perché altrimenti voi immaginatevi una squadra come, che ne so, l'Empoli in Serie A, il Bologna vale 350 milioni di euro Tale cambio di proprietà permette un esborso maggiore anche per un nuovo allenatore Ecco qui che potrebbe tornare l'idea di Antonio Conte Ma al di là dell'idea di Antonio Conte, chi è? Chi è lo sceicco? Chi è quello di cui stiamo parlando? Ragazzi è praticamente uno degli uomini più ricchi del mondo E io raga vi assicuro che se questo qua inizia a pensare al Newcastle come il suo giocattolino Come il giocattolino di sua proprietà Allora ragazzi mia è qua veramente prendiamo, chiudiamo baracche e borattini E parliamo di una squadra che tra 2-3 anni spadroneggerà in Premier League E al massimo tra 5 anni farà parte di quelle 3 con Paris Saint Germain e con Manchester City Che a suon di milioni voleranno portarsi a casa la UEFA Champions League Dice, operazione da 350 milioni di euro sul conto dell'attuale presidente del club L'imprenditore milionario inglese, proprietario dei grandi magazzini e Sport Direct Mike Ashley Una squadra, il Newcastle, che da anni si trova nelle zone medio-base della classifica Una situazione che secondo i tifosi è da imputare al fatto Che l'attuale proprietario non ha investito sufficientemente per migliorare la rosa Problemi di questo genere non dovrebbero più esistere nel caso in cui venisse confermato Si è stato confermato, quest'articolo è prima ma è stato confermato L'acquisto da parte di Mohamed Bin Salman Non so se avete visto la foto, loro che esultavano, il video eccetera Ragazzi, qui si sono passati ad avere una presidenza con un proprietario che non spendeva mai un euro sul mercato Nonostante i grandi incassi in Premier League ad avere probabilmente Quello che spenderà di più nei prossimi anni nel calcio inglese Qualcosa di veramente clamoroso Ma chi è Mohamed Bin Salman? Mohamed Bin Salman è il principe ereditario saudita In linea di successione Bin Salman è il primo a succedere al trono dell'attuale sovrano Suo padre, Re Salman A livello internazionale questo è conosciuto anche con l'acronimo di MBS Classe 1985 Quindi non dico che sia un bambino ma poco ci manca Nel senso 95, 2005, 2015 C'ha 35 anni, è un ragazzo A differenza dei suoi fratelli, fratellastri e cugini Non ha studiato fuori dal regno Ma a Riad Dimostrazione del forte legame con il suo paese d'origine Tant'è che gli altri sono andati tutti fuori dal regno a studiare Lui ha preferito rimanere lì La sua scesa politica parte nel 2015 Quando suo padre diventa sovrano dell'Arabia Saudita Da allora prima diventa primo ministro Poi ministero della difesa E' qui che Bin Salman impone a suo padre Idei come quella della guerra nello Yemen Così come di una feroce contrapposizione all'Iraq E lui inoltre ad aver pensato al progetto Vision 2030 Un programma di riforme destinato ad incidere su tutti gli aspetti dell'Arabia Saudita Dall'economia ai costumi Bin Salman ha creato nuovi investimenti privati Ha sviluppato nuovi mercati potenziando le fonti di energia per l'Arabia Saudita Così da destinare il petrolio esclusivamente al mercato dell'export Fatto stavo andremo avanti a leggere Che comunque è un uomo che non si dira certamente indietro In quello che sta facendo Che siano aspetti positivi o negativi Comunque subito nonostante la giovanità Ha preso per le palle la situazione E la sta portando in avanti Uomo molto vicino agli Stati Uniti di Trump Al tempo i quali sono stati Tra i primi fautori Alla sua nomina come principe ereditario L'appoggio sembra quasi incondizionato Tant'è che da Washington arriva il Via Libera Via Libera ha diverse decisioni azzardate da lui pianificate Qua ovviamente si parla di storia Ma andiamo a leggere una cosa che comunque mi aveva incuriosito particolarmente Perché? Perché Amnesty International era andato contro la trattativa Che avrebbe portato il Newcastle nelle mani di Bin Salman Amnesty International avverte la Premier League Non fate la figura del fesso Secondo Amnesty International Come per altre associazioni umanitarie La trattativa non sa da fare E invece si è fatta Questo perché come anticipato Quella di Bin Salman è una figura alquanto controversa Questo infatti è stato accusato da CIA E Nazioni Unite per la complicità dell'omicidio in Turchia Bla 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 Di un giornalista Contro questa operazione anche il Qatar Tra i due paesi dopo che l'Arabia ha bloccato i confini Del piccolo e ricchissimo territorio della dinastia E quasi continua a parlare di storia Fatto sta che sostanzialmente noi qui non parliamo di storia Non parliamo di politica Parliamo di calcio È oggettivamente una figura assolutamente controversa Per quanto riguarda corsi e ricorsi storici Problematiche storiche Assolutamente sì Però quel che è certo è che in questo momento Bin Salman ha rilevato le quote del Newcastle E voi immaginatevi come potrà andare ad operare Uno degli uomini più ricchi del mondo La cosa assurda E lo stavo leggendo E ci tenevo appunto a Sottolinearvelo È che lui Giusto per dirvelo Ha un fondo Che è 13 volte più ricco Degli shake del Newcastle Eccolo qua Eccolo qua La trattativa Bla 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 Si è chiusa Come riporta il sito inglese Goal.com Il fondo salita possiede una ricchezza netta Di oltre 430 miliardi di euro Vale a dire 13 volte tanto Quella di Mansur Dello shake Ricco proprietario del Manchester City Addirittura 50 volte più Di Nasser Al-Khelaifi Presidente del Paris Saint Germain È una disponibilità considerevole Proveniente da investimenti e attività in tutto il mondo A cui tra poco si aggiungerà anche il Newcastle Ora Voi immaginatevi La possibilità del Newcastle Di lavorare con un fondo Che è 13 volte 13 volte Quello del Manchester City 50 volte Quello del Paris Saint Germain Se questi grandi uomini Non hanno avuto problemi Ad investire Nel mondo del calcio Con la possibilità economica Che avevano Figuratevi Immaginatevi Farlo per una persona Che è ricca 50 volte più Del presidente del Paris Saint Germain Che negli anni Non si è posto troppi problemi E adesso In questo momento In attacco a Neymar Mbappé E Lionel Messi Secondo me C'è poco da dire Sono curioso Sono curioso Da una parte Sono rammaricato Perché comunque Il fatto che ci siano sempre più Questi uomini Super ricchi Che utilizzano appunto Il calcio come proprio Giochino di divertimento Un pochino Mi Mi rattrista Perché capisco anche Quanto sia Pesante Questa possibilità Capisco anche quanto sia pesante Poi per le altre squadre Tipo la mia Investire Quando la mia appunto Va ad investire In un modo normale Quanto meno normale Dall'altra parte Però sono curioso Perché quando una squadra Ecco io Un commento qua sotto Mi raccomando Iscrivetevi al canale Qualora non l'aveste già fatto Io vi ringrazio Per aver visto questo video Mi da lasciato tantissimi Mi piace Buona salata Allene come sempre Ci vediamo ad un prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti